Linea diretta, voce ai cittadini, l'amministrazione risponde. Ogni martedì alle 18 in diretta web su quotidianodigela.tv il sindaco e la giunta rispondono alle domande dei cittadini. Live sulla pagina facebook del quotidianodigela.it Ben trovati con Linea diretta da Luca Maganucco. Questa è una nuova puntata del programma istituzionale che noi abbiamo concesso all'amministrazione comunale per concedere a tutti voi di dialogare, di conoscere i programmi pianificati dall'aggiunta di Domenico Messinese, il sindaco che oggi abbiamo qui come ospite studio. Abbiamo tantissimi argomenti da affrontare, ma voi potete interagire come sempre, potete seguirci intanto al canale 621 del digitale terrestre di Antenna 7 e potete seguirci sulla nostra piattaforma ufficiale del quotidianodigela.it e quotidianodigela.tv. Quindi inviate i vostri messaggi, dialogate con il sindaco, un'occasione da non perdere. Messaggi propositivi naturalmente, ma potete anche incalzare. Il sindaco è qui apposta per voi. Il numero per inviare i messaggi è il 348-79-37364. Iniziamo subito a dialogare con il sindaco, raccontando la domenica che ci sono appena messi alle spalle, una domenica veramente piena di vicissitudini, dove ha avuto lei la possibilità, sindaco, di notare alcuni comportamenti anomali. Non è una questione di comportamenti anomali, ma diciamo che intanto domenica è stata la giornata di festa nel centro storico di Gela, dove in contemporanea si è vista una gara di biciclette abbastanza importante a livello regionale, con uno dei circuiti più belli, mi dicono, della Sicilia. Nello stesso momento a Piazza San Francesco abbiamo avuto la sfilata delle auto d'epoca e in più ci hanno fatto compagnia le associazioni dell'Aerci che vendevano dei fiori per fare la raccolta dei fondi contro il cancro. Quindi diciamo una giornata in cui la città mostra di essere viva come sempre, solo che fortunatamente lo spirito dei gelesi che hanno voluto questa giornata sono riusciti a non farsela rovinare da degli atteggiamenti sicuramente poco gratificanti da parte della Polizia Municipale che pur essendo messa in servizio non si è presentata per poter garantire in un certo senso quello che era un servizio già programmato, anzi è successo esattamente il contrario, hanno cercato di impedire agli organizzatori di poter predisporre le barriere di sicurezza lungo il percorso. Quindi una pagina devo dire bruttissima per quanto riguarda, credo, la responsabilità dei vigi urbani anche perché si parla di motivi estremamente futili, per esempio più che altro una situazione di un pretesto che vuole continuare con la volontà di poter di fatto danneggiare la città. E questa è la cosa che mi dà più rabbia perché andare a annullare un giro a livello regionale avrebbe portato sicuramente già la ribalta delle prime pagine regionali e forse nazionali, però per una cosa che sicuramente è poco gratificante. Io credo che questo vuol dire farci male e fare dei ricatti cercando proprio di cercare di avere dei benefici che bisogna vedere quando siano dovuti o meno, cercando di non fare il proprio dovere innanzitutto, e questo credo che sia una cosa che debba fare riflettere, ma contemporaneamente facendo una cosa che a me non piace, ricattare, ricattare coloro con cui bisogna dialogare, ma ancora la cosa più grave è andare a minacciare i propri concittadini che fa perdere di credibilità sicuramente al corpo, però devo dire che fortunatamente è sempre quella minima parte che rovina tutto perché devo dare merito invece che gli agenti che si sono presentati sono stati eccezionali che con un numero esiguo sono riusciti a mantenere l'ordine e la sicurezza su tutto il circuito. Un grande applauso alla polizia e ai carabinieri che in modo attivo hanno dato veramente una grande collaborazione e questo fa notare la differenza tra chi crede nel proprio lavoro, fa il proprio lavoro perché innanzitutto prima ci crede, chi invece forse crede a qualcos'altro e diciamo ci sono degli ideali, gli ideali possono essere verso il bene della comunità, il bene collettivo oppure verso il portafoglio del bagomat e bisogna sapere distinguere forse le persone. Lei aveva anche messo le mani avanti qualche giorno prima dell'evento di questa gara di ciclismo, salutiamo addirittura l'organizzatore che ci ha contattati perché abbiamo scritto soltanto alcuni eventi che hanno caratterizzato negativamente la manifestazione che tra l'altro è ben riuscita e nonostante tutto ha dato lustro ancora una volta alla nostra città, ma sicuramente l'applauso non lo dobbiamo fare alla polizia municipale, lei aveva qualche giorno prima scritto al sindacato della polizia municipale e aveva detto andate avanti, state andando avanti con un stato di agitazione ormai da troppo tempo, parlava addirittura di un stato di agitazione ad oltranza, un aspetto veramente quanto mai insolito e poi alla fine invece dei circa 30 agenti di polizia municipale e chiamati a garantire l'ordine pubblico se ne sono presentati soltanto tre. No, vorrei essere più vicino, andando devo fare complimenti all'organizzatore che ha organizzato veramente bene fin dai minimi dettagli quello che è stato la sicurezza del circuito e la logistica a contorno, però voglio fare un palazzo invece ai vigili urbani che si sono presentati, perché in realtà i vigili sono otto quelli che si sono presentati, tra cui non faccio il nome, ma un vigile che è stato operato la settimana scorsa di un dopo-depass al cuore. Quindi un vigile che è rientrato dalla malattia per consentire di non far fare brutta figura alla propria città. Quindi non vorrei dire i vigili tutti o meno, perché bisogna dare merito a chi invece è intervenuto, chi è venuto e si è fatto carico del lavoro degli altri, come succede molte volte, perché in amministrazione ci sono... Le interrobo un attimo signor, le chiedo scusa, arriva una domanda da Adriana, proprio entra a gamba tesa sulla discussione, dice possono i dipendenti di questa amministrazione e ciò si riferisce proprio alla Polizia Municipale sottrarsi al loro compito? No, ma infatti procederemo secondo quelle che sono la legge, perché noi quando si parla di legalità vuol dire seguire quelle che sono le norme di legge e qualcuno forse era abituato invece a accogliere momenti più deboli, più critici della città, che potevano essere le feste religiose come Pasqua o la Madonna o un evento importante come quello che è successo l'america scorsa, proprio per riuscire ad ottenere dei benefici personali che invece fosse meglio contrattualizzare, contrattualizzare ricordo con tutti i dipendenti del Comune, qua invece sembra che qualcuno è convinto che i vigili urbani, non tutti fortunatamente, ritorno a ripetere una minima parte ma che di fatto riescono poi a creare dei problemi, basta una mela marcia all'interno del cesto che può cercare di rovinare tutto l'intero cesto, però fortunatamente ci sono quelli che ci tranno al proprio lavoro, però stavo dicendo che vanno a ricattare per avere delle cose che invece se realmente ci toccano ci sono sicuramente tantissime strade e non quello di invece boicottare il lavoro degli altri perché vi è una mancanza di rispetto negli organizzatori della gara che lo hanno fatto sicuramente perché ci credono e perché vogliono dare anche lustro alla nostra città perché queste sono manifestazioni importanti e fregandosene di quello che invece è il che può fare all'intera collettività. Quest'egoismo sicuramente non può che non essere condannato. Lei ci ha abituato anche con le sue segnalazioni ad un comportamento atipico da parte di altri dipendenti dell'amministrazione del Comune, mi riferisco ai dirigenti, qualche volta le ha avuto delle segnalazioni proprio l'ultimo secondo quando proprio non c'era più nulla da fare mettendo in serie difficoltà l'organizzazione di una politica da lei guidata, una politica che già dal giorno del suo insesimento non è stata accolta come converrebbe con un primo cittadino. Lei trovò il Comune chiuso quando lei venne eletto sindaco, fu costretta a festeggiare davanti a un Comune sbarrato, chiuso. Questo era un presagio di un comportamento che sta andando avanti con dirigenti che lei ha puntualmente segnalato, con una polizia municipale che ripeto sono dipendenti, non sono né volontari e quindi non dobbiamo premiare e fare il plato a persone che fanno il loro lavoro, dobbiamo cercare di controllare persone che sono chiamate a lavorare e poi si girano dall'altra parte chissà per quale pretesto. Questo stato di esitazione è un pochettino atipico, lei ha fatto anche una segnalazione al prefetto. Ma domenica alla domenica c'è stata un'altra venda importante, c'era una partita di sport che dava lustro alla città oltre i convini regionali, c'era il Gela Calcio che ha giocato, ha difeso l'onore e il colore della città oltre che della città sportiva, andando a giocare a Rennes, una trasferta importantissima per una partita di play-off dove nessun tifoso gelese ancora una volta penalizzato da non sappiamo chi, da una politica nazionale, quindi nessuno è potuto andare in quella struttura, dentro quello stadio ad assistere alla partita. E lei aveva chiesto ad una delle associazioni che gestisce una struttura pubblica, mi riferisco al Cine Teatro Andito di Macchitella, aveva chiesto di poter posizionare un monitor gigante per seguire sui nostri canali, che siamo stati gli unici a seguire la diretta per voi cittadini, come sempre noi ci spendiamo per voi e vogliamo continuare a farlo, ma quel cinema è rimasto chiuso, gli ultra sono rimasti fuori, gli ultra ancora una volta sono stati trattati male anche dalla nostra collettività. Come risponde a questo gestore di cinema che ha lasciato le cancelli chiusi? In realtà la cosa è molto più complessa, in realtà è più complessa perché di fatto quando praticamente, io mi ricordo che stavo tornando da Roma e ero in viaggio, ho saputo che praticamente il prefetto proprio venerdì sera ha bloccato la trasferta dei tifosi e posso capire cosa possono aver provato e siccome mi sembra anche giusto intervenire per vedere di poter risolvere questo tipo di problematica, ci siamo messi a disposizione per vedere se era possibile far trasmettere la partita in chiaro nel territorio di Gela. Ci siamo rivolti a una emittente che doveva partire per poter fare questo tipo di attività, ci siamo accorti che invece avevano delle concessioni limitate, non potendo trasmetterle. Abbiamo chiesto di ammirarli, non sono stati in grado loro di poterlo fare, dopodiché abbiamo chiesto questo favore, dato che non erano in grado di poterlo fare, a un altro editore il quale invece è riuscito in tempi brevissimi a poter ottenere i diritti e di consentire tutti i gelesi di poterlo seguire tramite la televisione. La cosa amagra perché a quanto pare c'è stata una presa di posizione con avvocati cercando di impedire di far vedere questa partita, perché o io nessuno, qua ritorna l'egoismo di cui parlavamo prima, o io nessuno, qua non c'era un io o lui, qua vi era la città di Gela che era fuori e che anche se in modo virtuale potessero da lontani i tifosi seguire la propria squadra. Io devo ringraziare chi lo stesso discorso poteva fare e chi è stato interparlato per secondo, poteva benissimo dire perché mi stai chiamando per secondo se ti sei rivolto al primo, perché mi devo adesso correre per vedere di poter riparare, me lo avessi detto prima forse sarebbe stato più semice, invece senza porre domande devo dire che invece è stato permesso comunque a casa di vederci la partita. Lo stesso problema si è stato avuto col cineteatro che alla fine si è saputo che non era in grado con le apparecchiature che avevano di poter trasmetterlo al cinema e quindi non è stato possibile far mantenere tutti i tifosi insieme. Se questa informazione l'avesse data sicuramente prima forse saremmo stati in grado di poter rimediare per poterlo fare vedere. E quindi qua si capisce qual è la volontà, se vi è la volontà di essere a servizio oppure come si fa normalmente le cose del bene pubblico invece devono servire al singolo e andando a perdere quella funzione che invece è quella di sociale che è fondamentale. Noi sindaco ci sentiamo chiamati in causa perciò non vogliamo approfittare di questo spazio anche per fare... I secondi chiamati sono loro qui. No, è giusto che io sono stato catapultato in quanto editore di questa emittente in prima persona da Fabrizio Parisi in questa vicenda. Noi abbiamo sempre seguito il Gela Calcio, era un'occasione d'oro perché non dare la possibilità a chi continua a seguirci da un anno di usufruire anche del nostro canale. Che non è solo a TV perché dobbiamo dirlo, noi abbiamo dato la possibilità di seguire la diretta a tutti i gelesi, a chiunque sparso nel mondo aveva desiderio di seguire questa partita tramite il sito. Questa è un'occasione d'oro. Lo dico anche per chi ha chiuso i cancelli di quella struttura nostra e non sua sicuramente perché quel teatro è un bene prezioso di questa collettività e sarebbe giusto ad oggi poi fare i bandi e i bandi di gara quando si danno in gestione o in affidamento queste strutture. Bastava soltanto connettere un pc a un proiettore per mandare questa partita in diretta, era una cosa semplicissima, bastava soltanto volerlo fare. L'ho saputo 5 minuti prima di inizio della partita se non le assicuro che l'avrei fatto personalmente. Visto che ne sto approfittando, dico che l'altra emittente è gestita da una persona che ci accusa tantissimo ma è una scilità, non è nemmeno gelese, perciò badi bene quando parla, che ha mortificato i miei colleghi della nostra categoria. Quindi noi non lo salutiamo, non facciamo parte di questa schiera di editori perché i giornalisti non vanno mortificati, avevano annunciato la partita e avrebbero secondo me voluto continuare a parlare ai loro telespettatori perché fanno un lavoro ecreggio. Li saluto in batti a Peppe Fiorelli e saluto pure ad Orazio a Comando. Speriamo che la pensino come me, visto che fanno parte di un ordine regionale come me. Andiamo avanti, scusi se non ho approfittato, ma per me era importantissimo sottolineare perché un servizio pubblico va gestito e va dato sempre a qualsiasi condizione. Non siamo noi che possiamo sottrarci perché qualcosa non va avanti. Oggi ha fatto un altro incontro, un altro incontro importantissimo, una conferenza stampa, un censimento dell'amianto. Mi spieghi meglio un po' come è andata? Sì, oggi è stato annunciato l'inizio della mappatura di tutto il territorio gelese per vedere i manufatti in amianto che ancora persistono sul nostro territorio. Questo è un punto del nostro programma, un altro di quei punti che stiamo mettendo a segno e da un anno e mezzo ci lavoriamo perché la legge italiana prevede che ogni proprietario di immobili faccia il proprio censimento, quindi i comuni solo dei propri beni. Invece in Sicilia il comune è demandato a fare il censimento di tutto il territorio. Quindi per questo, però non dice come e né tantomeno quali sono i mezzi per poterlo fare. È stato per questo che quindi abbiamo dovuto informarci. Siamo riusciti a trovare due aziende che mettendosi insieme hanno messo appunto un sistema che tramite foto aeree possono fare un primo screening da definire in un secondo tempo con droni oppure direttamente di persona la mappatura e dentro la fine dell'estate avremo la città completamente mappata e questo ci darà la possibilità di poter accedere a dei fondi per poter dare dei contributi per poter eliminare l'amianto dalla nostra città e quindi diventare la prima, si può dire, città siciliana che sia senza la presenza di amianto all'interno delle nostre strutture. Vi ricordo che l'amianto negli anni novanti è stato utilizzato tantissimo dai serbatoio, alle coperture, alle pareti, agli isolanti, quindi nelle abitazioni ce n'è davvero tanto. Chi ha l'amianto non lo toghi perché fino a quando non si sbriciona sostanzialmente non è pericoloso ma se la polvere viene diffusa nell'aria quello sì che può dare e dare gravi problemi. Quindi stiamo temerando una legge che come al solito è una legge regionale fatta con l'intento senza dire come si doveva fare. Noi abbiamo dovuto studiare il metodo per poterlo fare e la prima volta che in Sicilia viene utilizzato un metodo del genere. Noi siamo convinti che questo ci potrà consentire di poter ottemperare a una legge ma soprattutto garantire la salute dei nostri concittadini. E quindi ascoltate il Consiglio del Sindaco, non toccate l'amianto, è un rifiuto speciale, pericoloso. Chiamate le ditte specializzate. Ma questo consentirà il fatto di fare la mappatura, di poter... In realtà è già partita la mappatura da qualche mese con le autodenunce. In realtà è che già possiamo sapere quali sono i siti dove c'è una certa quantità di amianto. Ma cosa importante, questo ci consentirà di avere accesso a dei contributi che potranno abbattere quei costi di recupero e smaltimento dell'amianto perché l'amianto se viene smaltito sicuramente non in modo corretto diventa pericoloso per l'ambiente e sicuramente per un popolo civile non mi sembra corretto abbandonarlo per le campagne. Significa creare un danno per i nostri figli che vogliono uscire fuori dalle muri della città. Sindaco, lei ci conosce, linea diretta non ha una scaletta ben precisa. Decidono loro, i cittadini che inviano i loro messaggi. Quindi torniamo a parlare di calcio per un attimo. Daniele scrive, se i fratelli Mendolan dovessero rilevare il Gera, l'amministrazione cercherà nuovi imprenditori? Diciamo che l'amministrazione non ha il compito di gestire le squadre di calcio. Noi siamo stati sempre in modo borderline, senza troppi clamori, abbiamo cercato di dare quell'appoggio, quel supporto che può dare un'amministrazione e soprattutto in un periodo in cui le amministrazioni di oggi non possono sicuramente avere né risorse né tantomeno possono fare cose che si facevano una volta. Cioè una squadra di calcio non è un elemento nelle missioni di un comune, quando il comune deve fare altro, deve dare altri servizi a cui deve porre la massima attenzione. Però è chiaro che è una squadra di calcio, credo che sia un orgoglio di tutti i cittadini, di ognuno di noi. Ritorniamo a quel discorso iniziale dell'egoismo che viene messo davanti a quello che è il bene comune. Noi per esempio abbiamo tantissime scuole di calcio a Gera, tutte frammentate, e non riescono a fare un fronte unico per poter vedere, invece di portare magari una squadra di Gera alla massima categoria, dove praticamente sempre l'individualismo è l'elemento che accumula un po' tutto questo fattore. Io posso dire che già la squadra di calcio ce n'è veramente tante, delle categorie diciamo più delettantistiche, ma sembra che non si voglia avere la possibilità di andare avanti. Io mi ricordo che ci sono state le squadre come il Chievo, dove il motore portante è stata la voglia di un quartiere di Verona, di portare la squadra avanti e dove è ancora adesso un bene della collettività. Fino a quando questo non entra nel nostro costume, difficilmente potremmo avere una squadra nelle altre categorie. Anche perché l'abitudine di andare allo stadio è comprare il biglietto, non tutti ce l'hanno, molti preferiscono averlo gratis possibilmente, fare l'abbonamento è sempre una cosa strana, fare una pubblicità magari del supermercato locale che possa poter sostenere la squadra, magari passare in un secondo piano, e quindi invece bisogna sapere cosa volere fare. Se si ritiene che la squadra di calcio ha un valore, allora bisogna anche credere e supportarla. Lei dal suo insediamento a Palazzo di Città ha trovato una catastrofe economica, ha ereditato la chiusura della raffineria, quindi ha deciso Eni di smettere di raffinare il petrolio. Da allora si è rimboccato le maniche, ha promesso una nuova economia lavorando proprio con Eni, in stretto contatto con Eni. Forse anche questo è costato la fiducia del Movimento 5 Stelle. Fino a qualche giorno fa, voglio salutare il collega, ha detto stampa, Salvatore Bartolotta, che ha moderato, ha serato, proprio per questo progetto importantissimo che si chiama El Lab, questa piattaforma logistica internazionale. Cosa significa per Gela? Questa è un'idea progettuale che abbiamo presentato in realtà in campagna elettorale e mi sembra strano che adesso ci siano dei componenti che stavano con me in campagna elettorale ad avvallare questo progetto che adesso sono estremamente critici. Diciamo che la presentazione che è stata fatta a Roma siamo arrivati cercando in questo periodo di strutturarla e di poter avere quel supporto di stakeholder internazionali che potessero avvallare questo tipo di progetto. Noi da oltre un anno e mezzo abbiamo fatto studi con importanti soggetti come da Polonia, come One Works, come Aquatec, che è uno dei più grandi costruttori di porta al mondo, Goldwater, diciamo molte società importanti, nomisma che praticamente si occupano di grandi strutture di economia e di sviluppo del territorio con analisi ben precise che sono servite sia per poter vedere quali sono le caratteristiche del nostro territorio per il rilancio e uno dei progetti che è stato focalizzato è stato proprio quello della portualità a Gela ed è stato presentato proprio a Roma dove si sono mostrate quali sono le caratteristiche che il nostro territorio fa la piattaforma naturale fra le altre cose per la logistica di tutto il Mediterraneo quindi una piattaforma nazionale che può dare rilancio all'economia non soltanto di Gela, non soltanto della Sicilia ma che addirittura può essere volando di rilancio per l'economia di tutta l'Italia quindi un progetto molto ambizioso che devo dire che è stato accolto molto positivamente in questi 15 giorni sono arrivati molte manifestazioni di interesse quindi il progetto anche se è ambizioso in realtà almeno ad oggi ha suscitato un grande interesse e non solo nei confini italiani ma soprattutto da parte di investitori esteri quindi noi ci stiamo lavorando abbiamo atteso prima di presentarlo direttamente a Roma dove si prendono le decisioni dove era giusto che si portasse a conoscenza di queste potenzialità del nostro territorio perché è lì che si prendono molte volte le decisioni che ci influenzano e che influenzano le nostre prospettive di crescita e quindi abbiamo voluto portarlo per questo motivo presentarlo prima volta a Roma comunque avremo intenzione e il piacere di rimostrarlo ai nostri concittadini nel breve periodo per adesso vi ricordo che il giorno 24, 25 e 26 a Gera ci sarà un'importante manifestazione dove si parlerà di biocarburanti si parlerà di biodistretto un altro asset fondamentale dello sviluppo del territorio noi ne abbiamo diventati diversi tra cui parliamo l'agricoltura e il turismo fatto in modo diverso come si è fatto adesso con più margini di guadagno e di crescita ma soprattutto non dimenticare nemmeno da dove veniamo pensando al nostro futuro in modo leggermente diverso però non dimenticando il nostro recente passato quindi con la metalmeccanica pesante con i biocarburanti con la raffianza dei biocarburanti con il GNL per quanto riguarda il trasporto sia su gomma che in navale potenziamento dell'autostrada delle linee ferrate della portualità elementi che sono anche inseriti all'interno del documento di Invitale che vede gli assi strategici per il rilancio economico del territorio Ecco, di notizie importanti lei ha portato da Roma speriamo, siamo convinti che tutto andrà bene che continuano a portare avanti questi progetti Io vi posso dire che ci sono nomi di multinazionali importanti che preferisco non dire per scaramanzia ma vi assicuro che l'interesse di questa piattaforma logistica sono arrivate manifestazioni da tutti i continenti quindi devo dire che almeno Gela per questo punto di vista sta all'attenzione di grandi investitori e questo credo sia una possibilità che ci stiamo creando Una nuova politica, pochi clamori, tantissimi contenuti lei l'ha sempre detto e dall'altra parte dalla parte di quei lavoratori che hanno perso il lavoro e quindi bisogna scusate il bisticcio di parole bisogna attivarsi affinché rinasca un'economia certo, quei numeri lasciati dal 2010 in poi sarà difficile replicarli ma Gela deve rinasce Gela ha tutti i numeri per rinascere No, ma su questo io ti vorrei contraddire in realtà se noi seguiamo quello che è il protocollo d'intesa e ci limitiamo solo a quello è una sconfitta perché i numeri dell'occupazione del nostro territorio sono sicuramente un bilancio negativo ma quello che stiamo proponendo in realtà stiamo pensando di costruire molto di più di quello che abbiamo lasciato perché le potenzialità sono tantissime e le vogliamo sfruttare tutte mi è sempre sembrato corretto evitare di dare delle speranze a breve periodo perché chi soffre giustamente può sentirsi preso anche in giro quindi ho sempre evitato di poter dare delle informazioni che possono dare delle speranze a breve e di cercare sempre di dire le cose quando sono concretizzate almeno in parte quindi questo modo di parlare credo che sia giusto per il rispetto dei miei concittadini prima di tutto puntiamo pagina noi siamo pronti a tornare se qualora qualche cittadino inviasse un messaggio parliamo di sanità lei oggi ha convocato il management dell'azienda ospedaliera provinciale il dottore Carmelo Iacono ma anche il direttore sanitario del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele con loro c'erano anche gli esponenti sindacali cos'è emerso dall'incontro? è stato un incontro che voleva fare il punto di una situazione sicuramente non ottimale della sanità a Gela in realtà noi siamo in un momento di cambiamento e in un momento dove tutto quello che è stato promesso negli ultimi anni è stato totalmente disatteso vi sono problemi di risorse finalmente si incomincia a parlare non del piccolo problema ma di come affrontare le problematiche la cosa che è emersa in modo positivo è che finalmente si è ammesso che ci sono delle diseguaglianze tra il nostro territorio e altri territori della zona di Caltanissette dove questo dipende da errori del passato dove l'attenzione sanitaria effettivamente è stata poco attento per il territorio di Gela spostandosi in altre zone dove ha creato di fatto una differenza di investimento non indifferente che stiamo cercando di poter colmare questo credo che il fatto di prendere coscienza che realmente ci sono dei problemi è il primo passo per risolverli è una situazione totalmente diversa rispetto ai primi incontri ho avuto anche con Iacone e con gli stessi sindacalisti dove vi era da una parte dove si diceva che tutto andava bene dall'altra parte tutto andava male non è vero che tutto va bene tutto va male ma sicuramente ci sono molte cose da correggere molti problemi possono essere di uso locale e su questo abbiamo cercato di mettergli il dito come il fatto di poter aumentare già da subito i posti a disposizione per l'assistenza all'Aias oppure di creare i posti dell'Alzheimer presso le strutture che ci stanno a Gela ma contemporaneamente stiamo cercando stiamo chiedendo che ci possa essere una maggiore attenzione per quello che si è detto come il pronto soccorso che è un discorso che si può fare ma soprattutto ci darci quei soldi che hanno tolto dal nostro territorio ricordo che nell'ultimo piano di investimenti sono stati tolti 5 milioni di euro senza sapere cosa all'aspo di Caltanissetta mediamente a tutte le altre aspo sono stati dati circa 8 milioni in alcune come Trapani 11 quindi 8 a togliere 5 a metterne fanno 13 milioni di euro che si sono persi per investimenti e per poter avere altro personale a disposizione vi ricordo che noi siamo un'area di crisi dove ci sono 3,5 milioni 4 milioni che toccano solo per il territorio di Gela, Butera e Niscemi che la regione siciliana non ha mai voluto ratificare anche se la legge lo prevede quindi ci sono delle colpe in modo orizzontale che a me come controllore della sanità del territorio mi tocca stare attento, evidenziare mi fa piacere che oggi c'era pure l'onorevole Arangelo e l'onorevole Federico i quali molti dei problemi della sanità in realtà si devono risolvere a Palermo dipendo dalla regione e quindi questa osservazione a cui sono arrivato oggi loro erano presenti quindi potranno sicuramente tirare le proprie conclusioni e cercare di poter destinare maggiori investimenti nel territorio però questa volta non dirottandoli nella zona nord del territorio Niseno ma nella zona sud della provincia dove lo si aggela Anche in questo caso con l'Asp lei si è trovato ad avere ha trovato una barriera un muro alzato nessuna collaborazione quando si è insediato ripetiamo sempre lei ha fatto lo sceriffo è stato nominato lo sceriffo perché andò tra le corsie dell'ospedale a fotografare Ed per realizzare un dossier su tutti i problemi che attanagliavano l'Asp poi esegui quasi una reazione perché io non ricordo in vent'anni che opero a Gela da giornalista un controllo agli uffici del comune da parte dell'Asp comunque esegui a ruota questo controllo e subito dopo una visita del presidente della commissione regionale della sanità Peppo Di Giacomo che venne a Gela a dire ok qui tutto va bene in realtà non andava bene nulla perché la dialisi sappiamo benissimo basta farsi una visita in dialisi dove i problemi di quel reparto sono preoccupanti e sono allarmanti non rispettano sicuramente i parametri imposti dalla sanità regionale soprattutto quella nazionale ma non soltanto questo reparto quindi lei veramente crede in una collaborazione e se le crede in questa collaborazione le chiedo io qual è stato l'aspetto che glielo fa pensare perché la sperequazione del personale è sotto gli occhi di tutti il trasferimento è sotto gli occhi di tutti i reparti i numeri non danno ragione a Caltanissetta benché fosse al capologo di provincia perché il pronto soccorso fa 10.000 12.000 prestazioni in meno l'anno hanno il doppio del personale quindi un reparto mortificato quello di Gela il nuovo pronto soccorso promesso alla città in realtà ha degli spazi meno qualificati rispetto al prima perché una stanteria che non prevede la differenza tra sezione d'uomo e sezione donna non è un nuovo pronto soccorso e non si può inaugurare nel 2016 con un ascensore rotto e con dei percorsi obbligati come il percorso della camera mortuaria che prevede il passaggio della Borella con la salva a seguito nell'all'ospedale dove tra l'altro il nuovo management ha trasferito il CUP e soltanto qualche mese fa ha messo una barriera non prevedendo i bagni i servizi igienici per tutti compresi le persone che vanno al CUP che hanno bisogno che sono dei pazienti e quelli con le sedi a rotelle che possono andare a fare la pipì nel bar di fronte perché non possono raggiungere materialmente i servizi igienici perché parla di collaborazione sindaco? io non ho detto parlo finalmente che si stanno dicendo quali sono i problemi e non tutto bene o tutto male ci sono delle cose che sono state migliorate io ricordo che da seguito di quella ispezione finalmente l'area condizionata si è messa a funzionare gli ascensori hanno cercato di sistemarli alcuni reparti almeno sono stati imbiancati qualche portello è stato sistemato quindi c'è stata una reazione anche perché siamo andati a finire direttamente dall'assessore Gucciardi a portare il report poi c'è stata una reazione che sono venuti al comune a fare delle ispezioni però devo dire che fortunatamente noi avevamo già avviato un controllo all'interno dei locali comunali che devo dire che si trovava in una situazione sicuramente non ideale abbiamo incominciato a togliere tutto quello che si trovava nelle scale facendo finalmente un pochettino di pulizia tra le altre cose la cosa strana è che mentre facevamo proprio la riunione per presentare il report delle criticità è arrivato proprio quel giorno di ispezione hanno cercato pure di denunciarmi direttamente cosa che non è nemmeno possibile come penalmente come datore di lavoro però diciamo che sono quelle cose folcloristiche che ci stanno non sono queste cose che mi fanno intimorire perché fortunatamente chi è che chi lavora per il bene comune ha poco da spaventarsi anzi devo dire che questo mi ha consentito di accelerare anche delle azioni dove c'era qualche dirigente un pochettino più come si dice meno reattivo ad accelerare perché si è preoccupato di essere di avere delle conseguenze di tipo penale quindi non tutte non tutte le ispezioni vengono per noce perché come vedete finalmente diciamo al comune di Gela come nelle zone nelle sedi distaccate si stanno sostituendo impianti elettrici o bussoletti realmente pericolosi proprio se venite adesso c'è una cabina che è uno spettacolo di di museo museo dell'elettrotecnica quella che abbiamo smontato in questi giorni sostituito le linee principali messi a salvavita in modo tale da proteggere le linee primarie rifatti i bagni stiamo rifacendo i bagni nei vari piani c'è il quarto piano che stiamo cambiando la metodologia con un sistema open space in modo tale che in un ambiente aperto si può tranquillamente lavorare con più luce e poter consentire di poter lavorare meglio perché è anche giusto vedere la qualità dove si può lavorare io devo chiedere il massimo ai dipendenti comunali ma è anche giusto farli lavorare in un ambiente più decoroso però detto questo il problema reale sta non soltanto nelle infrastrutture ma sta in un problema di organizzazione in un problema di personale che Gela ne soffre parecchio ed è là che ci voglio le risorse per poter pagare il personale e i tagli che sono stati fatti non possono essere fatti pagare solo all'ospedale di Gela ma pur capendo che ci sono dei limiti di funzionalità penalizzare solo una struttura ospedaliera sicuramente crea dei problemi e questo dipende dalla regione con tutta la malignità che uno potrebbe avere in realtà se ai fondi non vengono ridotti bisogna ci sono delle azioni che vengono fatte forse il dirigente doveva cercare di tagliare meno su Gela e forse un po' più in altra qualche altro struttura Sindaco poi diamo le responsabilità a chi veramente ha la responsabilità e chi sta a capo di un ASP è nominato dalla politica quindi direttamente le responsabilità sono direttamente legate alla politica Iacono è legato al nostro crogetto non andiamo troppo distante quando c'è una migrazione sanitaria come quella che caratterizza l'ASP e CL2 così acuta parlando con il loro linguaggio loro devono chiedersi dove sono i problemi voi avete sensibilizzato lei ha fatto un dossier la cittadinanza denuncia ma poi se i problemi non vengono risolti i cittadini per curarsi spendono i soldi e vanno via ma questa migrazione la paghiamo tutti noi in termini economici perché l'ASP ha una migrazione sanitaria che fa letteralmente paura in termini di salute perché quando in termini economici Sindaco pure no ma io voglio parlare intanto alla salute perché in termini economici sono relativi quando c'è la salute davanti perché oggi abbiamo fatto un esempio che per una mancata reperibilità a Gela per quanto riguarda l'ematologia per poter avere una sacca di sangue bisogna aspettare 5 ore per poterla prendere la calta in setta e 5 ore sono parecchie per qualcuno che ha bisogno di sangue siamo veramente giunti al termine della nostra trasmissione Alberto mi confermi che è quasi finito il nostro tempo addirittura è finito però prima di lasciarci in onore anche dei 45.000 tifosi raggiunti domenica con la nostra diretta li ringraziamo uno per uno veramente leggo quest'ultimo messaggio che arriva da Pablo da Pescara non so se è un nome inventato comunque lo ringraziamo per aver inviato questo messaggio e scrive lo stadio nuovo che tanto si prometteva si farà o possiamo ammenare le vele definitivamente brevemente sindaco allora noi siamo stati a Roma proprio la settimana scorsa siamo stati all'Olimpico curva a nord ingresso numero 20 la sezione dove c'è la commissione di verifica dei progetti per quanto riguarda lo stadio di calcio devo dire che abbiamo avuto i complimenti per la struttura come è stata presentata l'hanno definita un gioiellino da 14.000 posti con ci sono alcune indicazioni perché vorrei ricordare che il progetto di fatto ha dovuto essere riadeguato con tutte le nuove normative sismiche tutte le nuove normative dovute alla sicurezza che impongono i nuovi stadi quindi tornelli accessi di sicurezza dimensioni per quanto riguarda le idee di fuga quindi già abbiamo avuto il primo benestare ci sono state alcune piccole dettagli che hanno voluto che hanno voluto praticamente sottolineare come il fatto di poter destinare anche delle aree per quando riguarda il commercio all'interno dello stadio stesso o di attività sportiva all'interno dello stadio quindi stiamo riprovedendo quindi a fare queste piccole correzioni e di fatto diciamo che il progetto è pronto la disponibilità finanziaria fino ad oggi ci è stata garantita che è presente quindi per noi lo stadio si farà e sarà sicuramente per quello che ci hanno detto un bello stadio su questo buono speech sulle parole del sindaco noi veramente vi salutiamo rinnoviamo l'appuntamento per martedì prossimo sempre alle 18 con linea diretta seguiteci al canale digitale terrestre 621 con antenna 7 questo nuovo network in parte anche gelese che ingloba il 60% dei programmi realizzati dalla redazione del quotidiano di Gela punto iti e dalla redazione del quotidiano di Gela punto tv un saluto da Luca Maganucco ci rivediamo martedì prossimo alle 18 linea diretta voce ai cittadini l'amministrazione risponde ogni martedì alle 18 in diretta web su quotidiano di Gela punto tv il sindaco e la giunta rispondono alle domande dei cittadini live sulla pagina facebook del quotidiano di Gela punto iti